Come mai il governo italiano ha perso tempo e permette a un fondo finanziario di prendere in giro questo territorio? L'azienda GKN Firenze ha chiuso. Noi si è fatto semplicemente quello che si dovrebbe fare quando da un giorno a un altro ti dicono va teni affanculo se licenziato. Ci avete toccato la famiglia ma avete sbagliato i calcoli perché la nostra famiglia è molto larga questa famiglia è larghissima quando venite qua ci chiedete sempre come stiamo ma come volete che stiamo? però in tutto questo almeno noi proviamo a trovare la lucidità di rimandarvi la domanda noi siamo così e voi come state? voi tutti!